Si tratta di cinque settembrini, uno più bello dell'altro, tenete conto che oggi siamo al 15 di novembre, sotto la parete di Terminino dove ce ne avevo trovato uno, ma era farso strano che non ce ne fossero venuti altri o che non ce ne vissero altri, invece eccoli qua, all'incirca saranno un chilo di funghi, forse un po' meno.